Un caro saluto da Mario Giuliaci, il tempo previsto nei prossimi 10 giorni con tendenza fino a 15 giorni, come dire che parleremo del tempo previsto quasi fino alla fine del mese. Una prima novità, finalmente le piogge sul nord Italia stanno per finire. La seconda novità ancora più di rilievo, arriva la prima vera rovente vampata di caldo africano. Tre fasi, tra il 15 e il 17 una debole perturbazione atlantica lambisce il nord Italia portando qualche rovescio temporale per lo più sulle Alpi e sulle zone per la montagna altina. Mentre sull'Italia centro-meridionale arriva un debole anticiclone africano che porterà temperature massime al più, diciamo, intorno a 35 gradi su qualche area del sud. Dico debole perché vedete che la quota a cui salendo si incontra una pressione di 500 Etta Pascal è una quota intorno a 5.840 metri. In questi casi significa che la colonna d'aria tra il suolo e i 5.840 metri non è rovente, altrimenti la colonna d'aria si sarebbe ancora più gonfiata e dispinta verso l'alto. Ma arriva la novità, una seconda fase tra il 18 e il 22 di giugno quando l'anticiclone africano si intensifica, nel senso che immette sulla verticale dell'Italia aria più calda, quindi tutta la colonna d'aria tra il suolo e la pressione di 500 unità si gonfia questa colonna d'aria e si spinge verso l'alto toccando una quota addirittura di 5.940 metri. In questi casi l'ondata di caldo è in genere piuttosto intensa, infatti avremo valori fino a 40 gradi, pensiamo, su Puglia, Materano e interno delle isole maggiore. Poi arriva nella terza fase tra il 23 e il 29 quando sull'Italia addirittura si allunga l'anticiclone dell'Azzorra con venti più freschi atlantici ma poche temporali, per lo più pomeriane sull'appennino centro-settentrionale e sulle regioni del medio adriatico, ma zone interne delle regioni medio adriatico. In questa fase tra il 23 e il 29 le temperature saranno in calo e quasi ovunque hanno valori massimi inferiore a 35 gradi.